abituali 41 1 prima erinquenti abituali 41 1 1 1 prima seconda camera azione e questa che cos'è? mi piaceva troppo laurea mosari fatto intanto la dentro non ci vado più tranquilla anzi sai che c'è? dove mi mette c'è appuntamento con uno per vedere l'idea di Savardì mhm te dicevo dove mi mette c'è appuntamento con uno per vedere Savardì tranquilla è un vecchio buffo tutto pulito i soldi li ho prestato prima che mi ingardiavano e con quei soldi lo sai che fanno scappamo via gli e te sono isoletti si levano da sto schifo come la vedi? non posso fidare certo che ti devo fidare non mi ha più di perdere delle ste cazzate che faccio lo sai che ti amo no? beh sei morto si? domani mattina quando esco tu cominci dai non si riprende vabbè ma riprendiamo dal bacio? domani mattina quando esco